Nel territorio foggiano sta per nascere una nuova realtà, un'accademia che si occuperà ecco di acconciature di bellezza, di benessere soprattutto. Esatto, siamo una realtà accademica di benessere dove formeremo nuovi professionisti all'altezza dell'evoluzione di questa categoria. Ecco chi potrà partecipare e soprattutto chi siete poi ad organizzare questo nuovo percorso? Siamo una ventina di parrucchieri associati a livello provincia, foggia e provincia dove ci siamo uniti per far sì che questa realtà possa avere una professionalità più ampia e più qualificata per questo lavoro bellissimo. Dove avrà sede questa accademia e come si può o meglio come si potrà poi accedere? L'accademia avrà sede a Lucera e si può accedere tramite contatti che stanno sui nostri profili social in modo che mi possono contattare e io farò l'iscrizione.